Non aprite quella porta scritto nero su bianco sulla carta la partita è ancora aperta Credono di aver finito ma era solo il primo tempo ma adesso col secondo qualcosa sta cambiando La rottura di ogni schema che era stato disegnato c'è una nuova epidemia e si chiama libero mercato La lotta è già iniziata partita dalla strada antifascismo militare qualunque cosa accada Fatti avanti quando vuoi saldare i conti sarete anche potenti ma nascondete un volto di mandanti Quindi capi ce n'è il problema in cima alla mia lista anche se il mondo va in te e pensa è la risposta antifascista Piove il piovo mi sto accendere se è il nemico da distruggere perché se non c'è un ostacolo è la strada del pativolo A Cerrimo nemico del fascismo puoi provare anche a scappare ma restiamo il tuo incubo peggiore Puoi provare anche a scappare ma restiamo il tuo incubo peggiore A Cerrimo nemico del fascismo puoi provare anche a scappare ma restiamo il tuo crawlingo A Cerrimo nemico del fascismo puoi provare anche a scappare ma restiamo cegem buildings E questa è il fiscamento po' del Attilano Vediamo currently ho tutta la raccomanda 100 игрówa L geometric Centre Grazie a tutti.